... ... Viene giudicato valido il primo segnale, la squalifica per Detroit Mail davanti Diablo di No, ovviamente il terzo segnale, Diablo di No, che va al lato di Diana del Circeo. La sopravanza, per linea esterna si fa vedere Duca del Bar con il numero 9, che va al lato di Diablo di No, poi via via gli altri con il numero 8 di Decon in quarta posizione e il 4 di Dreamrod d'Alvio in quinta. Rimane davanti Diablo di No, Duca del Bar che cerca posto alla corda davanti a Diana del Circeo, riesce a parcheggiare, Cristiana fracassa e così. Gli 800 se ne vanno in 58. Tatto per linea esterna c'è Dunga che prova a progredire, anticipato da Decon, che gli offre così un buon punto di riferimento perché risale posizioni. La schiaia di Decon però è stata presa da Dreamrod d'Alvio che ha a sua volta anticipato Devagar DVL, un chilometro in 1.13 e poco più. Quello di Diablo di No che continua a condurre anche di fronte. Adesso Decon che va più deciso ai lati del battistrada, ci sono 400 intermedi in poco più di 30 con tentativo ora di Drake di ricongiungersi al gruppo mentre si ferma di fatto Dunga, ma Diablo di No è davanti nei confronti di Decon, poi Dreamrod d'Alvio, l'errore per Devagar DVL, addirittura d'arrivo con Diablo di No che conduce, tre di margine nei confronti di Decon che attacca a fondo. Ed è sopravanzato da Dreamrod d'Alvio, Diablo di No al comando, Dreamrod d'Alvio che lo insieme, ma Diablo di No ha risolto la partita nei confronti di Dreamrod d'Alvio e Decon. 44 a chiudere per gli ultimi 602 entri, 2.27.3 per il doppio chilometro di Diablo di No che ha così centrato la partenza e ha sopravanzato Diana del Circeo dopo i primi 150 di gara e ha poi scandito parziali in portanti, l'allievo di Vincenzo Castiglia, i colori della scuderia Mai Orse, la guida di Antonio Simioli, 1.13.7-13.8, la media al chilometro, sul doppio chilometro che è sicuramente un bello andare per questo figlio di Neste F e Punta degli Ulivi, con Antonio Simioli che quindi conquista il successo a precedere un comunque positivo Dreamrod d'Alvio numero 4 che è alla meglio sul numero 8, Decon ed è tutto. Grazie.